Ciao a tutti, oggi siamo in trasferta dall'Abruzzo al Veneto in un attimo da Silvia e Nicola, Petz, scuola di telettatura di Preganziollo. Questo per invitarvi il 26 maggio 2024 presso la nostra sede MacPetz a San Salvo, provincia di Vieti, quindi in Abruzzo, un evento imperdibile. Silvia ci mostrerà le tecniche di telettatura ASEAN, io vi parlerò del marketing da fare in telettatura, quello là essenziale, quello che facciamo noi nelle nostre due sedi e che ci ha portato molti risultati, quindi tangibili. L'evento costerà soli 30 euro e li devolveremo interamente in beneficenza alla Lega in difesa del cane sede di San Salvo, quindi inviteremo magari anche il Ministro Bramila a far parte di questo evento, così da rendersi conto di quello che è la nostra realtà e di quello che noi facciamo a supporto sia del settore e sia degli animali anche più bisognosi. Vi aspettiamo numerosi e seguiranno altre locandine e varie informazioni con gli orari, l'indirizzo e quant'altro. Se ci sono dubbi potete contattare per me Nicola Osilia. Grazie. Ciao.